Partita pilotata in eccellenza. Quello che succede nei minuti finali tra Tau e Filigine ha dell'incredibile. Il Filigine regala letteralmente tre gol al Tau. La partita infatti passa clamorosamente dal 2-1 al 5-1 nei minuti finali. Il risultato infatti ha una strategia, penalizzare Livorno. La differenza gol di quattro reti obbliga infatti la squadra livornese a vincere per forza contro lo stesso Tau alla prossima giornata se vuole andare in Serie D.